Il Jiangsu Sainti a caccia del quinto risultato utile consecutivo ospita il Tianjin Teda per la diciottesima giornata del campionato cinese. Bastano dieci giri di lancetta al bomber rumeno Christian Danalac per portare in vantaggio il Sainti con un preciso colpo di testa sul calcio piazzato. Al ventunesimo è Lu Bofei a finire sul tabellino ma il centrocampista del Sainti trova la propria porta regalando al Tianjin il gol del pareggio. La squadra di casa però ci mette appena 120 secondi a riportarsi in vantaggio stavolta con Jixi Hang. Solo cinque minuti più tardi l'attaccante serbo Vladimir Jovancic firma il gol del 2-2. Al Nanjing Olympic Sports Center il pubblico tra il decimo e il ventiseiesimo assiste a quattro gol in soli 17 minuti. Sul finire di tempo la gara sembra avviarsi verso il pareggio ma Danalac riporta in vantaggio i suoi firmando così il quindicesimo gol in 18 gare. Finisce 3-2 per il Jiangsu che rimane secondo in classifica, meno 4 dal Guangzhou Evergrande di Lippi. Il Tianjin invece una partita vinta nelle ultime dieci scende al tredicesimo posto. Il Tianjin invece una partita vinta nelle ultime dieci scende al tredicesimo posto.